A Chiomonte in Valle Susa dove si aspetta la via dei cantieri per la prima galleria della Torino-Lione. Il sindaco ha una grande opportunità per i nostri paesi, dice. Entro giugno l'Italia dovrà avviare il cantiere preparatorio della Torino-Lione secondo il calendario dettato dall'Europa. Nei prossimi giorni l'attenzione sarà a Roma con il vertice Berlusconi-Sarcosi e il tavolo istituzionale a Palazzo Chigi proprio sulla TAV. Poi ci si sposterà sulle alture di Chiomonte in Valsusa dove l'Italia dovrà scavare la discenderia. Il sindaco dice è una grande opportunità di lavoro per i nostri paesi. Questa è la Chiomonte di Montagna, la strada stretta dove c'è il municipio. Mille abitanti tra capoluogo e le frazioni Frais e Erama. Salendo dai 750 metri del capoluogo più in quota fra i boschi, sotto il viadotto dell'Auto Frejus si scaverà la galleria di servizio, 7,5 km, come le tre discenderie francesi a Modano. Dall'autunno, camion in arrivo e partenza, il sindaco Pinard dà il via libera a una condizione irrinunciabile, che l'accesso al cantiere avvenga direttamente dall'Auto Frejus e non dal paese. Uno dei motivi delle contestazioni all'opera è la paura dei cantieri, la paura di come verranno eseguite le opere. E questa paura devo dire che un po' ce l'ho anch'io. Dunque il cantiere, la LTF contatterà i proprietari di 7-8 ettari di bosco, sono decine. Anche gli oppositori alla nuova linea hanno acquisito terreni e innalzato una baita senza le necessarie autorizzazioni. Tra trattative e recinzione del cantiere passerà l'estate, in autunno la ditta CMC dovrebbe cominciare lo scavo della discenderia. A Chiomonte si aspettano le ricadute della legge regionale sui grandi cantieri. L'assunzione di manodopera locale, il coinvolgimento di imprese locali, la ristorazione e l'ospitalità di tutti i lavoratori in strutture esistenti. Qua non ci saranno cantieri dormitori, la gente verrà inserita completamente nella nostra comunità. Completata in tre anni, la discenderia di Chiomonte porterà tecnici e operai a lavorare nel cuore della montagna, dove si scaverà il tunnel di 57 chilometri della Torino-Lione. Il costo 6 miliardi e 600 milioni di euro, dei 10 miliardi e mezzo del costo complessivo della tratta internazionale da Saint-Jean-de-Maurienne a Chiusa-Saint-Michel, 84 chilometri. L'Europa mette il 30%, i restanti 8 miliardi devono essere divisi tra Francia e Italia che si stanno accordando. Se tirerà aria di Pasqua è possibile che già martedì a Villa Madama a Roma, Sarkozy e Berlusconi mettano nero su bianco il patto per la prima fase non più rimandabile tra le due stazioni internazionali, Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa in Italia. Il 3 maggio a Palazzo Chigi il governo incontrerà poi le autorità piemontese e i sindaci della Valsusa.